e però all'inverno si apriva il salotto buono che era la stalla e tutti quanti noi aspettavamo quei momenti perché era il momento in cui gli amici si incontravano. Lì si svolgeva tutta l'attività sociale, politica, direi anche amorosi, lì c'erano gli incontri tra i giovani e le ragazze, io ero piccola e mi intrufolavo in mezzo a tutta questa gente, la mia curiosità si sviluppava giorno per giorno, forse era anche il mio indole però mi divertivo un mondo e lì arrivavano tutte le notizie. Ma particolarmente cominciava in casa mia nel nostro salotto delle discussioni politiche. Ho cominciato a sentire parlare che c'era gente che non erano d'accordo con il fascismo. Erano sempre parole molto velate e molto timide perché allora anche solo una barzelletta contro il Duce poteva essere motivo perché tu venissi arrestato. Oppure per esempio ricordo benissimo una notizia che venne un ragazzo che in piazza non aveva salutato romanamente un fascista, lo avevano schiaffeggiato, l'avevano picchiato. Questo lo ricordo perfettamente perché mi fece una grande impressione che un ragazzo fosse picchiato solo perché non salutava romanamente un fascista. Per esempio ho cominciato a sentire che molti di questi giovani non volevano più andare al sabato fascista in piazza alle esercitazioni perché avevano capito che anche queste avevano una funzione di preparare i giovani alla guerra. Quindi circolava il padrone delle feriere di Jack London e poi le stelle ci stanno a guardare, che l'ho letto moltissime volte però che mi ha impressionato di più, che mi ha fatto pensare è stato il padrone delle feriere. Cioè pensare a questi, noi contadini faticavamo ma all'aria aperta, sotto il sole, sotto una pianta, avevamo intorno a noi la natura, pensare a questa gente che viveva a metri e metri sotto terra senza nessuna protezione e che, se questo libro non l'avete letto, non potete immaginarlo quando descrive che tutto in quel paesino di minatori era color di carbone, era tutto nero, anche i bambini avevano i musetti neri perché la polvere di carbone penetrava dappertutto e questo per me è stato il libro che mi ha sconvolto, che ho cominciato a capire la differenza che c'era tra i poveri e i ricchi. Ho cominciato a pensare quando quei giovani là dicevano i figli dei ricchi non vanno mai a fare la guerra, a fare la guerra ci vanno i figli dei poveri.